bello ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono pochi e oggi siamo su Asphalt 8 Airborne per chi non lo sapesse Asphalt 8 è un gioco è un simulatore simile a Gran Turismo o Need for Speed ma vanno alle cianci e iniziamo subito andiamo su gioca, andiamo su carriera cattav controllo a metà ok vittima la gara la Ora a me, ora 6 canzoni sono vedete da copia, ti voglio vedere se il video non verrà eliminato. Oh cavolo il salto. Ok, primo fail della giornata. Minchia. Oh pila. E vai l'avvitamento. Ok, primo fail della giornata. Ok, primo fail della giornata. Oh che volo. Oh. Devo cercare di tagliarlo. Taglia, taglia, taglia. Devo cercare di taglia la legna. Il magnesio. Sicurita costica è arrivato a primo ragazzi. 3 stelle 800 punti stella, 19 medaglie Sì, scusate In totale 3.903 crediti Andiamo avanti Le moto possono servire gli avvitamenti Quindi è impossibile compitare gli obiettivi legati agli avvitamenti Le moto non ne possono fare Ok, inserimenti di Buddha Usiamo sempre il Dodge O meglio, la Dodge The Weight Wall sarebbe la rannemuraglia E si parte Già con il primo Da una prima espulsione Siamo in Cina Va bene Non è molto Non è molto Non è molto Adesso che voi tutti lo sappiate Bene teniamoci la comoda, tanto sono primo guarda il drago, il drago cinese bene, tanto se ne superano il turbo al massimo oh no, maledizione, incidente, che cazzo mi hanno raggiunto vabbè tanto oh no Anche qua abbiamo posto. Ok. 3.825 crediti. Ok. Per la cura di Barcellona ci vuole un'altra auto. Aspetta, non mi conto l'aria che in macchina ci vuole. Adesso è otto. Ok. 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 Cos'è la giornata con i due ironici. Per lo tedesco. Ok. Ok. Andiamo. Vabbè sempre classica. Siamo a Barcellona qui. Ok. 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 e anche la monomarca ho rischiato anche di farmi per male da solo ho scoperto di gran lunga dove credi di andare più a posto è mio lo sai bene accelerare altrimenti mi ha sorpassato lui spiazza amico ma sei abitato nel posto sbagliato il primo poste il mio lo sai ah no non è la monomarca prima cosa perfetta 4 secondi in volo espulsione leader leader miglior giro con le perfette di ciastacoli e buono stella ok allora la guiana francese farò farò qui allora dato l'appunto allora farò anche guiana francese ok vai mai l'ho ok 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 Speriamo lì non Cristo Mi ha scrivato Ha cercato di farlo della pata Speriamo 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 L'unico effetto qua è il quinto No 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 È cura Speriamo 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 Vediamo Un po' i premi Primo Forza perfetta 5 secondi in volo Espulsione 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 leader Il giro dei piastacoli E il volo stella Ok Allora 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 io direi che per Io direi che per questa Io direi che per questa parte Io direi che per questa parte può essere tutto Noi ci vediamo alla prossima Bye Ciao 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 Ciao